Buongiorno amici, soli, mani, bellezza tutto intorno a me e un libro di oggi che è di Almerco di Matteo che si chiama Racconti del mondo rotto. Sono i racconti che è un documento che è un documento che è molto conosciuto in Messico. Sono racconti che sono storiali, sono divertenti, malenconici, ma anche politici, che è la differenza con tutti gli altri libri di racconti che generalmente noi andiamo a presentare. È il racconto che mi è piaciuto, e la cosa che mi ha costruito di più è lo scrittore di La Divina che parla di Sanca, che è un personaggio tipico dei barri di Prato, di Firenze, dove io quando posso andare vado a mangiare la finocchiona, che è una specie di salame molto, ma molto gustoso. Che dire amici, leggete questo libro che ho detto di Matteo, che è il libro che è vertenci e adatto sulle spiagge, adatto per noi.